Buona domenica a tutti, oggi è il 10 luglio e torniamo a parlare di stando nel PUR 500 il mercato che indirizza il movimento degli altri anche se abbiamo visto che proprio grazie invece al piccolo MIB che avevo compreso che non era partito da qui un nuovo annuale e che avremmo continuato a scendere sotto questi minimi, potete andare a controllare ovviamente l'analisi in merito facciamo appunto della situazione, da questo minimo a questo minimo può essersi chiuso il secondo annuale del biennale iniziato a marzo del 2020 adesso dobbiamo capire se da qui sta partendo un nuovo annuale o se sta partendo un raccordo quindi se avremo una partenza AV o AW, ne abbiamo già parlato non sto a perderci altro tempo concentriamoci sull'ultima parte perché siamo a 128 giorni di inverso ovvero siamo già all'interno di una durata semestrale media e se vogliamo chiudere il nostro semestre dobbiamo a questo punto andare su o raggiungere la condizione sufficiente per la chiusura stessa ovvero cosa chiude un semestrale inverso, un TP4 inverso un sottociclo di 3 gradi inferiori ribassisto ovvero con un baffo rialzo per quanto riguarda l'inverso e quindi ci serve un TP1 inverso un TP1 inverso che faccia questo movimento tipo questo 1 vincolo, 2 vincolo però che si torni a questo punto sopra questo livello qua sopra i 39.045 ok? questo segnala anche un tra virgolette rischio per chi vuole andare long perché? è perché se chiude un semestrale anche soltanto arrivando in una zona media mobile a 50 periodi è il discorso che si interrompe la discesa perché inizia si inizierà ad andare giù per far partire il nuovo TP4 inverso cosa non particolarmente piacevole se si è a rialzo ma noi siamo tra virgolette obbligati a fare un nono una nuona candela verde o di qualsiasi altro colore che vada in violazione da lunedì in avanti? no, non siamo obbligati anche perché il TP2 inverso l'attuale mensile inverso che parte da questo massimo candela verde e per ora è arrivato a quest'altro massimo candela verde è solo arrivato a 24 barre può andare fino a 43 e quindi si può provare ad aggiornare i massimi fino a quando? fino al 4 di agosto in barba al detto sell in May and go away vendi a maggio e vai via se qui si iniziassero a rimbalzare ad un livello ben superiore rispetto a quello della media mobile inizieremo a tra virgolette correre il rischio di far partire finalmente un annuale che non era partito qua qui manca il tempo per farlo partire ricordiamoci anche questo per cui sintetizziamo che cosa mi aspetto per la settimana prossima per la settimana prossima per capire che cosa mi attendo che possa succedere andiamo al grafico a 15 minuti vedete che qui non c'è stata violazione e essendo già arrivati a 11 t-3 più un raccordo che è tantino perché qui stiamo parlando di un raccordo tra un settimanale e un settimanale quindi un t-3 corretto non messo appiccicato a caso come vedo altrove perché non si riesce a fare una centratura qui noi ci teniamo alle regole in ogni caso qui abbiamo bisogno di che cosa chiuso questo t-inverso abnorme che ha già la sua condizione di chiusura qui non deve tornare qui sopra sarebbe stato più comodo se fosse tornato qui sopra ma non deve gli basta tranquillamente essere sopra questo massimo per il fatto che parliamo di evoluta non di vecchia ciclica a questo punto ci aspettiamo discesa perché? per due motivi primo motivo qui abbiamo un secondo t che chiede gentilmente di andare a chiudere siamo arrivati a quante giornate? siamo arrivati a 5 t-3 sul grafico giornaliero siamo arrivati a 5 giorni e anche tempo che si vada a fare un sesto un settimo un ottavo ma che non si spari più verso l'alto la condizione tra l'altro deve includere quella di un bisettimanale di chiusura quindi due giornalieri bassisti quindi se si iniziasse da qui una chiusura di bisettimanale ecco avremmo perlomeno un ritorno non soltanto verso questo minimo ma anche verso la media mobile a 200 periodi se sarà il periodo ma è molto possibile per il fatto che può partire l'inverso per cui riassumendo mi aspetto se avremo la perdita di questa media mobile a 50 periodi di discesa verso questo livello verso i 3827 punti sia per quanto concerne il quinto t-3 che per quanto concerne il sesto che se non sarà ribassista insieme al quinto non ci porterà una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del bisettimanale primo settimanale secondo settimanale fatto questo questa condizione potremmo piano piano tornare a salire direi che questo è tutto vi ho lasciato anche persino il swing in modo da controllare che qui era partito effettivamente sia in termini di tempo che in termini di swing il secondo t settimanale di questo che può essere non un mensile ma dunque partito ah si 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 tranquillamente se è quello del 21.6 serenamente anche più di un mensile e quindi questo è quanto almeno almeno un paio di giorni di discesa o almeno un paio di cicli giornalieri ribassisti per poi vedere di vincolarsi a rialzo e ripartire a salire ma iniziamo a prenderci la partenza di un nuovo settimanale ribassista d'accordo? e poi ragioniamo su tutto il resto vi ringrazio per il vostro tempo e come vedete sempre più precisione sempre più targets in termini non soltanto di punti ma anche di tempo chi utilizza semplice analisi tecnica non governa il tempo non sa quando si può passare in un canale per dire ascendente dalla parte alta alla parte bassa e se ci si tornerà sulla parte alta o sulla parte bassa noi invece con l'evoluta possiamo farlo grazie per il vostro tempo e ancora buona domenica seguiranno le analisi di MIB e forse anche DAX nella sera probabilmente Bitcoin perché siamo già andati a target eccoci qua anche su Bitcoin siamo andati sotto il minimo che avevo dato come target questo qua manca ancora un pochino di tempo potrebbe ancora esagerare il movimento buona giornata a tutti così